Ciao ragazze, come state? Era da un bel po' che non ci vedevamo. Io ora sono ufficialmente libera, quindi spero di poter essere più presente qui su YouTube. Oggi volevo fare la review sui rossetti. E niente, quindi volevo parlare un po' di questo. Allora, se mi vedete guardare così per giù è perché sto leggendo perché ho degli appunti. E niente, allora parliamo delle labbra, delle labbra disegnate, che appunto all'epoca, secondo gli etologi e gli antropologi, le labbra nettamente disegnate intorno alla bocca non costituiscono altro che è un elemento estremamente attrattivo. Al tempo stesso però molte donne, oggi, si truccano soprattutto per piacere a se stesse, seguire la moda, per il gusto di giocare con il proprio aspetto e adottare uno stile. Infatti voglio citare alcune frasi, cioè una frase di Diego Dalla Palma e Gil Cagnè, cioè il loro modo in cui definiscono appunto il trucco delle labbra. Allora, Diego Dalla Palma afferma, credo che le labbra siano una sorta di rivelatore della personalità. È strano, ma da come vengono mosse, atteggiate, truccate, in una parola utilizzate, si può intuire il temperamento di una persona. Grande Diego Dalla Palma. E ora Gil Cagnè, la bocca è la parte più sensuale del volto femminile. Basta un rossetto a dare personalità e carattere nuovo ad un viso. Cambiando forma alla bocca, anche con la sola matita, cambia persino il modo di parlare. Per questo usare il rossetto può essere un atto di coraggio. Non c'è niente di più femminile che vedere una donna prendere il suo rossetto e ritoccarsi la bocca. Con un altro tipo di bocca a volte si diventa più audaci. Allora, diciamo che durante gli anni 50, oltre ad essere una reazione ai tempi duri della guerra appena conclusa, si comunicava anche un chiaro e iniscutibile messaggio erotico, avere le labbra truccate. E quindi non è un caso che in quegli anni venne ideato il disegno per il labbro superiore composto da due semicerchi che modellavano la bocca rendendola più grande sensuale dipinta di rosso fuoco. Ma l'uso del rossetto iniziò molto prima degli anni 50, ovvero dal 2800 avanti Cristo, perché addirittura i sumeri trattavano una polvere ottenuta con del pigmento rosso, essenza di rosa e olio di sesamo per creare il rossetto. La principessa dei sumeri, Shubad, ne portava sempre con sé un po' dentro una scatoletta di madreperla e filigrana d'oro, che oggi, questa borsetta, è stata ritrovata ad Ur e conservata nel museo di Baghdad. Quindi, non so, se volete fare una capellina a Baghdad fate pure, scherzo. Niente, dicevo dei sumeri nel 2800 avanti Cristo, ma anche nell'antico Egitto si fabbrica vero setto mescolando l'ossido selino di piombo, ovvero il minio o il minio, con sostanze vegetali oppure l'ocra arancione e del grasso animale profumato. In Grecia, invece, veniva molto usato il color mattone, sempre a base di ossidi di ferro. Nell'aroma imperiale si usava il rosso acceso e durante il Medioevo, invece, solo le cortigiane si tingevano le labbra di rosso. Da quel tempo, quindi, dal Medioevo, si usò truccare la bocca in modo molto marcato fino a tutto il Settecento. Nel Seicento, invece, sono state cambiate le regole. La bocca doveva essere piccola e dipinta con contorni ristretti. Infatti, venne inventata la colla bouc, spero si pronunci così, o colla bush, qualcosa del genere. Comunque, che era una specie di sostanza stringente che è applicata ai lati delle labbra, quindi qui e qui, e praticamente inibiva l'apertura della bocca durante la conversazione ed il riso. Nell'Ottocento, invece, le donne si limitavano a lucidare le labbra, spalmandole con un composto a base di cera. Bianco di balena e olio di rose. Infatti, perché questo? Perché in questi anni l'uso del trucco era considerato disdicevole e riservato solo alle donne di malaffare, tipo le prostitute, diciamo, in queste situazioni. E quindi tutto questo era visto come un atto di volgarità. Mentre oggi le cose sono cambiate, perché le labbra vanno di moda carnose e i rossetti messi a disposizione dalle case cosmetiche sono moltissimi e diversi sia nella formulazione che nelle tonalità, come molte di voi sanno. E appunto si passa dal bianco rughiaccio al rossolacca, al bordo nero, quelli madreperlati, ci sono anche quelli dorati tradanti, lucidi, opachi, supercoprenti, semitrasparenti, indelebili, nutrienti, pollergenici, trattanti, chi più ne ha più ne metta. Molte donne non uscirebbero di casa assolutamente senza rossetto, mentre invece, come me, c'è chi lo rifiuta. Io per esempio, ragazze, non sopporto la pasta del rossetto al contatto con le labbra, non lo so, mi dà fastidio, infatti per me il rossetto deve essere tipo una sensazione piacevole, perché se no, niente, non lo metto. E poi cerco quando, quelle rare volte che lo uso, cerco di metterlo proprio in maniera aderente, aderente, non tutto in quel modo pastoso. Però è anche vero che senza rossetto anche il trucco più raffinato risulterebbe povero e incompleto. Il rossetto infatti non serve solo a completare un trucco, ma permette di modificare le linee della bocca, qualora un disegno non perfetto lo richieda. Accentua la personalità, il tipo fisico, lo stile e tutto questo semplicemente cambiando colore e forma alla bocca. E niente, come dicevo prima, per chi appunto come me non sopporta il rossetto appiccicoso e lo vuole estendere in maniera... e lo vuole estendere in maniera aderente per evitare appunto che sporchiamo i tovaglioli, i bicchieri o le guance altrui, cosa molto fastidiosa. C'è il mio ragazzo che ogni volta amico rossetto con lucida labbra perché mi dà fastidio eccetera eccetera... Si sa come sono gli uomini, quindi è una buona tattica anche per questo, che ve la dico subito. Bisogna prima incipriare la bocca e poi... poi passare il rossetto e asciugarlo bene, cioè passare il rossetto e poi con una velina di carta tamponarla sopra le labbra per levare l'eccesso di prodotto. Bisogna anche sottolineare la bocca con un disegno molto naturale, perché sennò le labbra potrebbero sembrare volgari. Anche questo. E niente, poi cosa avevo più da dire? Ah, volevo dire anche che come ho detto nella review del blush, potete creare il vostro rossetto personalizzato. Come? Ve lo ripeto, potete grattare semplicemente un po' di prodotto o di fard, di fard, blush oppure di ombretto, mischiarlo con dei lucidi da labbra e potete ottenere veramente un rossetto o un gloss molto molto personalizzato, da abbinare appunto al colore delle palpebre o delle guance. E niente, cosa volevo dirvi appunto questo ragazze per capire un attimo da dove deriva il rossetto, gli usi, i costumi, la storia. E niente, spero questa review vi possa essere stata d'aiuto. E vi saluto ragazze. Un bacio. Ciao!